Buongiorno a tutti. La domanda a cui cercheremo di rispondere molto velocemente in questo intervento è quale è lo stato dell'arte nell'ambito della legislazione vigente per la risposta che dà l'ordinamento rispetto alle notizie sempre più frequenti e sempre più allarmanti di casi di ciberbullismo ed altri reati o abusi commessi a danno dei minori che per la frequenza dell'allarme sociale che suscitano ormai fanno pensare come accanto alla cattiva maestra televisione di Popper si sia materializzato un pericolo più concreto, ossia una sorta di pifferaio facebook o similia che diciamo inducendo i minori a rivelare con grande facilità informazioni riservate, lì rende facile preda come minimo di pratiche commerciali aggressive e al limite di ogni correttezza. E se non vittime di reati anche gravissimi, pensiamo solo all'istigazione al suicidio che ha occupato molte pagine di cronaca in quest'ultimo anno in Italia e anche all'estero. La nostra Costituzione, all'articolo 31, protegge espressamente l'infanzia e la gioventù e in ambito ONU, sin dalla Convenzione per i diritti del fanciullo del 1989, la tutela del minore è consacrato come valore prevalente anche su altri diritti fondamentali quali la libertà di espressione, di manifestazione del pensiero e di impresa. Tuttavia rispetto a queste petizioni di principio la realtà è molto più complessa, la rete per sua natura non tollera facilmente vigilanti e normative caratterizzate da territorialità ma vi è difficoltà a individuare norme e autorità competenti da applicare. Si dice infatti, cito il professor Franceschelli, che Internet, figlia di militari, perché sapete che si è sviluppata negli anni 60 nell'ambito del Ministero della Difesa statunitense, tuttavia nasce libera e quasi anarchica, praticamente anarchica in quanto è di per sé refrattaria ad ogni tipo di regolamentazione. Questo problema diventa più urgente perché oltre a non esserci una regolamentazione precisa, puntuale, sull'uso della rete, soprattutto nei confronti ai minori la rete tende ad erodere, a rendere meno efficaci anche la regolamentazione di altri settori come quello delle trasmissioni televisive che nel nostro paese sono regolate, sono sottoposte alla vigilanza dell'Agicom, dei Coricom, del Comitato Media Minori esistono leggi e sanzioni, ovvero il settore della protezione dei dati personali, anche per il quale esiste un garante ed esiste una normativa specifica. Tuttavia il fenomeno della convergenza dei media, per cui noi possiamo con un click del telefonino che anche i ragazzi dell'elementare, come abbiamo visto i bambini, come riportato da un'indagine recentissima, hanno ormai con sé con un semplice click del telefonino possiamo diffondere senza limiti potenziali di spazio e di tempo una trasmissione televisiva che magari è andata in onda in orario notturno oppure foto e video che sono stati realizzati in ambito domestico e tali dovrebbero restare. Quindi il problema della regolamentazione c'è. Cominciamo comunque con una buona notizia che è quella che è riportata nella prima slide, ovvero che la Commissione europea ha colto l'allarme e prende atto nel libro verde sulla convergenza che è dell'aprile 2013, quindi speriamo che sia una rondine che fa primavera e non come quella del proverbio a cui non c'è normalmente un seguito, speriamo che il seguito che in questo caso ci sia, prende atto quindi che esiste una necessità di aggiornare la regolamentazione proprio alla luce dell'insufficienza della tutela che viene fornita rispetto ai pericoli in cui sono esposti i minori. Chiaramente l'obiettivo, come potete leggere dalle slide, è quello di riuscire a, diciamo, identificare correttamente l'età degli utenti della rete e di conseguenza filtrare i contenuti in base all'età stessa degli utenti, cosa che ad oggi, mentre per le televisioni, per le trasmissioni televisive è un po' più possibile, per internet è molto più difficile. Rispetto a questa petizione di principio che ancora è contenuta nel libro verde sulla convergenza che abbiamo appena visto, la situazione comunque normativa attuale nel nostro paese non è definita, infatti il titolo di questo intervento era appunto il lavoro in corso. La questione forse più rilevante è quella della responsabilità delle imprese che forniscono servizi internet, che forniscono quindi sia le connessioni, sia servizi più complessi, motori di ricerca, social network, eccetera. Di fatto in Italia si applicano i principi della direttiva europea in materia, quella che abbiamo visto dovrebbe essere aggiornata urgentemente, in forza dei quali il provider risponde a titolo di distributore non come un editore, di conseguenza non ha alcun obbligo di controllo sui contenuti se non ci sono delle clausole specifiche, dei richiami espressi per determinati servizi e quindi non avendo obbligo di controllare i contenuti veicolati non gli si può scrivere responsabilità per i medesimi. Quindi questo è attualmente lo stato dell'arte in Europa e del resto è una legislazione analoga e vigente negli Stati Uniti che comunque hanno un sistema diverso, quindi con cui non si possono fare riferimenti diretti. Rispetto a questa situazione vi riporto queste due sentenze la prima di primo grado del Tribunale di Milano del 2010 relativamente a un fatto di cronaca che si era verificato a Torino quindi la messa in rete di un video diffamatorio nei confronti di un minore disabile da parte dei compagni in cui il Tribunale ha riconosciuto in primo grado la corresponsabilità dei vertici di Google Italia per la violazione, diciamo, per il reato di diffusione abusiva di immagini e sulla base del principio che leggete, ovvero che non è possibile che ci siano delle zone franche qualcuno deve rispondere, non è possibile che ci sia una prateria, un forrest in cui tutto è permesso e non si ritrovano, non è possibile rinvenire le responsabilità tuttavia questo allarme lanciato da questa sentenza di primo grado questa interpretazione non è stata accolta dalla Corte d'Appello in quanto con la sentenza successiva del 2012 sullo stesso caso la Corte ha ritenuto di attenersi a quello che è il diritto vigente ovvero che non potendosi rinvenire un obbligo di controllo generalizzato sui contenuti in capo ai provider, non è possibile neppure ascrivere responsabilità in medesimi per i contenuti veicolati sulla rete e quindi ribalta il principio che è stato sancito nella sentenza di primo grado queste due pronunce sullo stesso caso, un caso appunto che comunque ha avuto una certa risonanza e nasce nella città di Torino, ci deve appunto far capire lo stato dell'incertezza e la necessità che comunque ci sia una estensione della tutela dei minori anche rispetto alla rete è da dire che se per la responsabilità delle imprese che forniscono servizi internet la situazione è questa per gli autori dei reati o comunque di condotte abusive e quindi diciamo per la responsabilità civile è possibile risalire, ormai ci sono molte tecnologie che lo consentono e abbiamo qui in sala le forze dell'ordine che svolgono un'azione meritoria in questo campo risalire agli autori dei fatti quindi vi è comunque la responsabilità personale e l'anonimato diciamo che spesso è garantito dalle operazioni svolte su internet non deve costituire e non costituisce di fatto ormai grazie appunto all'impegno delle forze dell'ordine e del progresso delle tecnologie un limite assoluto e per lo più superabile e quindi autori di reati sia contenuto patrimoniale come frodi, informatiche sia contenuto più simile ai fatti di cronaca che abbiamo appena citato quindi diffamazioni, sostituzioni di persona e fino al caso gravissimo la distigazione al suicidio che abbiamo più volte menzionato trovano comunque le ordinarie vie di oltre che alla pedopernografia in cui diciamo l'Italia ha ottenuto dei risultati molto insomma dei successi notevoli grazie proprio alla collaborazione tra le varie forze dell'ordine coinvolte e si può risalire comunque all'autore se l'autore è un minore se l'autore è un minore l'ha responsabilità per i danni cagionati e chiaramente dal punto di vista civilistico e del risarcimento ricade anche sui genitori questa è una precisazione che va fatta perché parlando di ciberbullismo è chiaro che si tratta di reati commessi a danno di minori ma da parte di altri minori e su questa ultima considerazione vado a chiudere sottolineando che più che mai vista nell'attesa di norme e sistemi di vigilanza più efficienti che magari le tecnologie consentiranno di rendere operativi l'educazione ha un uso corretto e consapevole dei nuovi media in particolare dei social network è senz'altro il miglior garante per la sicurezza l'equilibrio psicofisico e lo sviluppo morale dei minori perché non diventino appunto vittime di abusi e non ne commettano e quindi acquisiscano quella capacità di critica e di autodifesa che è citata dal verso del poeta molto antico che quindi sicuramente non aveva ancora conoscenza di internet la qualità del riccio che riesce comunque a difendersi che ho citato appunto nell'ultima slide con cui chiudo che è un'ottima slide